Ciao a tutti e benvenuti su Surprising Facts. Se siete pronti per un viaggio nella conoscenza e nella curiosità, siete nel posto giusto. Non dimenticate di lasciare un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun aggiornamento. Abbiamo sempre nuovi contenuti sorprendenti in arrivo, quindi assicuratevi di rimanere connessi. Grazie per essere qui. Buona visione. Dal gioco innocente dei bambini nella sabbia ai misteriosi abissi che si celano sotto di noi, i buchi della terra sono portali verso l'ignoto. Oggi, ti portiamo in un viaggio avvincente attraverso i 5 buchi sotterranei più affascinanti del nostro pianeta. Numero 1. Scopri il sogno dei speleologi. La grotta delle rondini, o Sotano della Sgolondrinas in spagnolo, è un capolavoro naturale celato nel cuore di San Luis Fotosi, Messico. Questo abisso a cielo aperto, con la sua apertura ellittica maestosa di 49 per 62 metri, si apre a una camera sotterranea gigantesca, estendendosi per circa 300 per 130 metri. Il suo pavimento si trova a un'impressionante profondità di 300 metri dal bordo inferiore, raggiungendo i 370 metri dal punto più alto, rendendolo uno dei pozzi verticali più imponenti del globo. La grotta, conosciuta sin dai tempi antichi dalle comunità locali huastec, ha visto la luce dell'esplorazione umana il 4 aprile 1967, grazie al coraggio degli avventurieri T. R. Evans, Charles Borland e Randy Sterns. Formata dalle antiche formazioni calcaree del Cretaceo, questa meraviglia geologica si è sviluppata lungo una frattura verticale, creando un paesaggio sotterraneo da mozzare in fiato. Il clima interno è fresco, con una lussureggiante vegetazione che adorna l'entrata, mentre il suolo è un tappeto di detriti e guano, abitato da una fauna varia e intrigante. Gli speleologi ed i temerari del base jumping affollano questo sito per la sua caduta vertiginosa, offrendo un'esperienza adrenalinica senza pari. Attrezzata per l'avventura estrema, la grotta presenta ancoraggi per una discesa sicura, che può durare fino a un'ora, mentre la risalita mette alla prova resistenza e coraggio, variando tra 40 minuti e oltre due ore. Un'esperienza unica, la grotta delle Rondini rimane una delle destinazioni più esaltanti per chi cerca il brivido dell'esplorazione e del volo estremo. Numero 2, l'enigma del Pozzo di Giacobbe, una fenomenale meraviglia texana. Immergiti nella leggenda del Pozzo di Giacobbe, un misterioso abisso naturale che sgorga dalle profondità dell'acquifero Trinity, alimentando l'idiliaco Cypress Creek in Texas. Questa sorgente straordinaria, avvolta in millenni di storia, è stata un tempo un santuario sacro per i nativi americani, custodendo segreti nelle sue profondità acquatiche sostenute da un immenso serbatoio sotterraneo. Rivelato al mondo attraverso gli scritti di Giacobbe de Cordova nel XIX secolo, questo pozzo unico ha incantato gli esploratori con la sua spettacolare eruzione acquatica. Nel tempo, le sue acque si sono placate, trasformandosi in un invito irresistibile per avventurieri e naturalisti, attratti dalla tranquilla bellezza e dalla ricca biodiversità che lo circonda. Il Pozzo di Giacobbe non è solo un'esperienza visiva, è un'avventura che chiama i più coraggiosi. I subacquei esperti possono sfidare le sue profondità, scendendo fino a cento piedi attraverso strette fessure per scoprire le maestose camere nascoste dell'acquifero. Questo viaggio sottomarino di cinque ore è un testamento alla natura selvaggia del sito, riconosciuto per la sua bellezza tanto quanto per i suoi pericoli, con passaggi insidiosi e una storia di esplorazioni audaci e tragedie. Numero 3, la grotta di ghiaccio Rhinveld. Nel cuore delle Alpi, vicino a Verin, Austria, dove si nasconde il Rhinveld, un santuario di ghiaccio celestiale noto come la grotta di ghiaccio più vasta del pianeta. Questo regno sotterraneo si estende per più di 26 miglia, un labirinto di meraviglie glaciali, dove la natura ha scolpito una cattedrale di cristallo nel cuore della montagna Wall. Rhinveld si traduce poeticamente in un mondo dei giganti di ghiaccio, un nome che evoca immagini di grandiosità e maestosità. Questo luogo incantato, formato si millenni fa con la nascita delle Alpi, è un palcoscenico dove il ghiaccio e la roccia danzano in un balletto geologico senza tempo, creando un paesaggio di sogno congelato. Varcare la soglia della grotta significa intraprendere un viaggio mistico attraverso corridoi angusti e vasti saloni, decorati con stalattiti di ghiaccio che pendono come lampadari e sculture glaciali che sfidano l'immaginazione. Questo santuario di silenzio è modellato dal respiro delle stagioni, con gallerie che si trasformano sotto il ciclo incessante di congelamento e disgelo. Le visite guidate offrono un passaggio sicuro attraverso questo mondo incantato, svelando la grandiosità del grande terrapieno di ghiaccio, una meraviglia che testimonia la maestria artistica della natura. Ogni camera rivela narrazioni cristallizzate, eternando la storia geologica e il folclore che avvolge la grotta in un velo di mistero. Il viaggio verso Rimbelte è un prologo l'avventura, promettendo non solo uno spettacolo geologico, ma anche un'immersione in un folclore ricco che respira vita nelle leggende locali, arricchendo l'esperienza con storie di antichi misteri e meraviglie. Anche se le porte di questo mondo glaciale non sono sempre aperte, con la sua accessibilità limitata alle variazioni termiche, i mesi estivi da maggio a ottobre accolgono gli esploratori, offrendo una finestra privilegiata per testimoniare il suo splendore gelido. La grotta di ghiaccio Rimbelte, con le sue dimensioni imponenti e le sue formazioni divine, rimane una delle attrazioni naturali più enigmatiche, invitando gli spiriti avventurosi a immergersi nel cuore del mondo dei giganti di ghiaccio. Numero 4, l'enigma di Sema Humboldt, un mistero geologico celato. Una delle meraviglie sotterranee più imponenti nascoste nelle profondità del Parco Nazionale Chima, Venezuela. Questa colossale dolina, nata dal cedimento di un antico sistema di grotte, si apre nel cuore della foresta come un portale verso l'ignoto, scendendo vertiginosamente fino a 1030 piedi di profondità con un'apertura che si estende per 1600 piedi, rendendola una delle cavità più maestose del globo. Circondata da un anfiteatro naturale di rocce e una vegetazione rigogliosa, la grandiosità di Sema Humboldt risiede nella sua selvaggia bellezza e nell'aura di mistero che avvolge le sue ombre inesplorate. Questo gigante geologico, incastonato negli altopiani della Guayana venezuelana, sfida gli esploratori con il suo terreno intervio e una natura impenetrabile che preserva i suoi segreti sotto un velo di inaccessibilità. Lontano dall'essere un semplice punto di riferimento, Sema Humboldt rappresenta un capitolo vivente della storia della Terra, testimone silenzioso di eoni di trasformazioni geologiche. Sebbene la sua origine esatta rimanga avvolta nel tempo, il fenomeno del suo crollo e la sua formazione sono un tributo alle potenti forze naturali che modellano il nostro pianeta in modi inimmaginabili. In questo santuario nascosto, lontano dall'abbraccio della civiltà, Sema Humboldt sta stoicamente, sfidando il tempo e gli elementi. La sua inaccessibilità e l'assenza di vie d'accesso lo rendono un tesoro riservato agli avventurieri più determinati, quelli che cercano di svelare i segreti meno conosciuti della Terra, lontano dalle rotte battute dell'esplorazione convenzionale. Sema Humboldt invita coloro che sono affascinati dall'ignoto, offrendo una rara opportunità di connettersi con la pura essenza della natura selvaggia, in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove ogni pietra, ogni eco di vento, narra la storia ininterrotta del nostro pianeta. Un viaggio qui non è solo un'esplorazione fisica ma un pellegrinaggio verso le radici stesse del mondo naturale, un'esperienza che trasforma la percezione della grandiosità e della potenza della natura. Numero 5, Icachil si rivela come un capolavoro della natura, con le sue acque cristalline che si adagiano dolcemente in un'ampia cavità di calcare, testimone di millenni di storia geologica. La roccia porosa, caratteristica della regione, ha ceduto l'incessante danza dell'acqua, formando questo pozzo sacro che invita alla scoperta e al rinnovamento. Oltrepassando il mondo superficiale, Icachil si apre a una dimensione dove la luce solare filtra delicatamente attraverso la fitta vegetazione, creando effetti luminosi mozzafiato che danzano sull'acqua. Le cascate, che si spandono come veli di seta lungo le pareti, insieme ai rampicanti che drappeggiano le rocce, incorniciano un'ambientazione da sogno, perfetta per l'esplorazione o per un rinvingorente tuffo nelle sue acque rinfrescanti. Gli abitanti originali di questo cenote, i pesci gattoneri, offrono una dolce compagnia ai nuotatori, mentre l'eco storico di Icachil risuona nelle profondità delle sue acque, dove artefatti e resti ritrovati narrano storie di antichi riti e cerimonie maya, conferendo al luogo un'aura di misticismo. Non solo una meraviglia naturale, Icachil ha guadagnato una fama mondiale come teatro di eventi spettacolari, come le emozionanti competizioni di tuffi dalle altezze delle Red Bull Cliff Diving World Series. Questo cenote non è solo un sito di straordinaria bellezza, ma anche un palcoscenico dove atleti dell'It si esibiscono in salti mozzafiato, dimostrando la audacia umana in armonia con la grandiosità della natura. Visita Icachil per un'esperienza che va oltre il semplice nuoto in un cenote, è un viaggio attraverso la storia, la cultura e le meraviglie naturali, un luogo dove ogni angolo racconta una storia, ogni goccia d'acqua canta un canto antico, e ogni visita lascia un'impronta indelebile sull'anima, invitando a ritornare a questo paradiso terrestre ancora e ancora. Grazie mille per aver guardato il nostro video, non perdete l'opportunità di restare aggiornati con i nostri prossimi contenuti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e seguiteci per scoprire insieme nuove incredibili storie, fatti sorprendenti ed avventure esplorative, non vediamo l'ora di condividere con voi i nostri prossimi video.